E' morto? Pronto? Stato arrivando? Ok, a dopo Allora la scena si svolgeva lì sul divano E adesso quanto parlo sia tutto a posto nel caso forse mi sapete No, si, appunto, ho letto le battute E questa qui come vuoi che la faccia? Come vuoi che ti illumini la scena? Scusa, ma questa altra azione come la faccio? E va, io cosa devo fare? Potete darmi un momento? Ragazzi SIGIA Guarda Guarda, al momento ti sta prendendo il lato nuovo E va, io cosa devo fare? E va, io cosa devo fare? E va E va, io cosa devo fare? 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 E va, io cosa devo fare?